Ciao, benvenuto nel mio canale, sono Daniele e oggi ti voglio parlare di dropshipping e di questa crisi economica senza precedenti, in che modo l'ha influenzato e quali step ho intrapreso io per proteggere il mio business e trarre vantaggio da questa situazione. Innanzitutto, se non sai cosa è il dropshipping, ti consiglio di andarti a vedere l'altro mio video dedicato nel canale. Ti faccio un veloce riassunto, il dropshipping è un business model dove invece di avere la merce in magazzino, utilizzi magazzini o fornitori terzi per spedire la merce al cliente. In pratica, hai un negozio, hai una vetrina online, la gente acquista da te, tu non hai merce fisica, dopo che hai preso i soldi del cliente, erati l'ordine e il tuo fornitore o il tuo magazzino terzo lo spedirà per te. Dopo questa piccola spiegazione, andiamo nel dettaglio su come questa crisi 2020 ha danneggiato tutti i business mondiali, o quasi tutti, e quali step ho intrapreso io per proteggere il mio. Abbiamo visto una discesa drastica di mercato, la chiusura di quasi tutte le attività in giro per l'Europa e anche in parte dell'America, ristoranti, negozi fisici, le persone rimaste senza lavoro o presse di panico si sono rinchiusi a casa, sono state rinchiusi a casa in quarantena e con una possibilità di movimento molto ridotta. Cosa vuol dire questo? La maggior parte degli e-commerce ha visto un'impennata in salita ai primi giorni in generale per poi avere un'altra flessione mano a mano che la quarantena aumenta dovuto allo stop dell'acquisto impulsivo dei clienti e soprattutto alla mancanza di liquidità dei clienti, quindi significa che cose superflue come accessori per l'auto o, non so, elettrodomestici o computer telefoni hanno avuto una flessione in negativo perché le persone prese da panico dell'incertezza del futuro hanno smesso di acquistare cose futili per salvaguardare i propri risparmi in vista della crisi che sta aumentando giorno dopo giorno. Per farti capire, solo il mercato dello smartphone ha avuto un calo mondiale del 38%, significa che rispetto a un mese fa, rispetto a un anno fa, nello stesso periodo, si stanno aumentando il 38% in meno di smartphone. è anche comprensibile perché molta gente è rimasta senza lavoro o verrà messa magari in cassa integrazione o riceverà lettere di licenziamento, purtroppo comunque c'è un'incertezza generale e le persone non vanno a spendere 500, 600, 800 euro per uno smartphone in questo momento. Quindi c'è stata una flessione a livello mondiale di quasi tutti i business. Questo è un male per chi ha un e-commerce o un negozio fisico, ma stiamo andando a parlare di commercio online in questo caso, dove tratta magari smartphone, dove tratta accessori per auto, dove tratta tutti quegli articoli non di prima necessità. Significa che oltre a dover chiudere i magazzini, non ha comunque richiesta di acquisto perché vanno i clienti, persone disposte a pagare. Qui è dove il dropshipping vede un grosso vantaggio. Non avendo merce fisica, ma rifornendoci da magazzini e fornitori terzi, abbiamo il completo controllo sul nostro inventario e possiamo cambiarlo dall'oggi a domani. Per farti ripetere, io solo oggi ho rimosso 7.000 articoli dai miei negozi ebay e ne ho aggiunti altri 8.000 totalmente diversi. Impensabile se hai un magazzino perché ci sono tempi di rifornimento, ci sono diverse tempistiche e soprattutto ci vuole il denaro per fare un rifornimento e non si può lasciare in un magazzino lo stock che già hai in venduto perché questo causa una perdita di cash flow. Ora, dopo averti spiegato velocemente alcuni vantaggi del dropshipping, ti voglio parlare degli step che ho intrapreso io nei miei negozi e che sto intrapendendo giorno dopo giorno, seguendo la situazione nazionale e internazionale continuamente per trarre il massimo vantaggio da questa situazione. Perché? È vero che è uno svantaggio, come abbiamo detto, per molti e-commerce, ma se tratti di dropshipping c'è stata comunque una flessione molto positiva di vendite sugli acquisti di prima necessità perché le persone non volendo uscire fuori, volendo rimanere a casa, stanno aumentando il potere di acquisto online ma sugli articoli di prima necessità. Quindi, quello che ho fatto io per trarre vantaggio da questa situazione è stato rimuovere tutti gli articoli non di prima necessità dai miei negozi, come gli smartphone, come gli accessori per auto, come accessori per le palestre che sono chiuse, abbigliamento, tutte queste categorie di prodotti che non sono più necessarie che le persone acquistano di meno o non acquistano affatto e le ho sostituiti con tutte quelle categorie che sono ritenute via necessità e che le persone stanno comprando online hanno spostato le loro abitudini da un acquisto nei negozi fisici a un acquisto online rendendo un vantaggio a chi si trova a vendere queste categorie online o a chi fa dropshipping e può facilmente accedervi. Un esempio è stato anche Amazon stesso che ha bloccato le spedizioni e gli ordini per molti articoli non di prima necessità, come articoli sportivi, videogiochi, verso l'Italia e la Francia per garantire una velocità maggiore sui prodotti di prima necessità essendoci stata una flessione in positivo di acquisti. Alcune delle categorie che sono andato a introdurre sono state alimenti senza dubbio, igienizzanti, igiene per la casa, pulizia per la casa, accessori per la casa cos'altro ho messo? Strumenti musicali perché molte persone sono a casa quindi hanno bisogno di hobby e stanno iniziando a strumentare strumenti o semplicemente si esercitano di più a casa chi fa nelle scuole di musica si esercita a casa prodotti per bambini arredamento perché le persone sono in quarantena a casa quindi non avendo molto da fare si stanno dedicando ai lavori di casa quindi ho aggiunto anche cose di birolage le pitture per le mura la carta da parati arredamento per le camere, arredamento per il bagno questo vende tantissimo tutti quei oggetti da casa le persone possono usare per fare lavori quindi lavori elettrici, accessori elettrici tutti questi prodotti vendono un sacco sono molto ricercati ho inserito anche molti accessori per animali domestici mangiare per animali domestici cani, gatti, lunichi, criceti tutte queste cose vendono e tutti i prodotti simili vendono senza problemi anzi, se riesci a modificare il tuo negozio seguendo queste categorie rimuovendo tutte le categorie non necessarie ti assicuro che inizierai a vendere molto di più come a ogni periodo storico dobbiamo andare a seguire il trend di mercato in questo caso il trend di mercato è totalmente spostato sui beni di prima necessità vendono bene anche articoli per passatempo come giochi per bambini perché le persone che lavorano magari da casa facendo smart walking hanno bambini che devono tenere occupato quindi gli comprano i giochi specialmente quelli piccoli giochi per bambini di prima infanzia vendono tanto detto questo vorrei chiudere dicendo le ultime cose su questa crisi che ovviamente è una crisi molto esponenziale che ancora non vede tunnel di uscita questo dispiace a molte persone ne stanno risentendo farò un video dedicato sui mercati azionari e su fondi di emergenza su perché tutti dobbiamo avere un fondo di emergenza perché vorrei ricordare che chi oggi soffre di più sono le persone finanziariamente incapaci non è un'offesa ti vado a spiegare subito cosa significa significa che non essendoci soprattutto in Italia una cultura finanziaria adeguata le persone non sanno gestire i propri risparmi e non è una questione di crisi di guadagnare tanto guadagnare poco avere spese tante spese poche spese ma significa gestire il denaro in modo da farsi dei cuscini riparatori in caso di queste emergenze e queste sono le persone che soffriranno di più perché non hanno coltivato nulla non hanno messo risparmi di lato o non hanno coltivato delle entrate secondarie al proprio lavoro e magari ora sono ferme e mi dispiace per questo tipo di persone ma credo che da tutte le crisi ci si possa imparare e si possa avere un'opportunità di crescita soprattutto bisognerebbe prendere la situazione attuale anche come insegnamento per un futuro per migliorare la propria condizione e migliorare le proprie scelte se sei interessato a questo argomento a breve metterò anche un altro video che parlerà proprio dei fondi emergenza della crisi azionaria dove parlerò anche di alcune azioni che sto comprando quindi se ti interessa l'argomento non dimenticare di iscriverti al canale e di seguirmi spero di averti dato qualche informazione utile ci sentiamo alla prossima ciao